Stile libero junior maschi In corsia numero uno parte Riccardo Boscolo Bariga, Clodia Piscine e Fitness Corsia due Lorenzo Menegaldo, Idros In corsia tre Mattia Scarpa, Clodia Piscine e Fitness In corsia numero quattro per lo Sporting Club Noale Pluricampione italiano giovanile dello Stile libero veloce Finalista di Stafetta e agli europei giovanili e ai mondiali giovanili Francesco Peron Lane five representing Slovenia Matic Kosirnik In corsia numero sei per l'Idros Francesco Anzanello Corsia sette Edoardo Marconato, Sporting Club Noale Corsia otto Luca Sernagiotto, Montebelluna E dunque Francesco Peron, Gorsia numero quattro super favorito per la vittoria 23 e 01 ha notato questa mattina Sarà interessante la lotta alle sue spalle Per le altre due medaglie in palio d'argento e di bronzo Peron che conduce a caccia perché no del record Che è di 22,89 22,94 A soli 5 centesimi Dal primato della manifestazione Comunque la vittoria arriva Francesco Peron 2,94 Su Mattia Scarpa 24,26 E poi Matic Kosirnik 24,26 24,26